A Pesaro Abio nasce nel 2001 e cosa fa Abio nel specifico? I volontari Abio si occupano di rendere meno traumatico possibile l'entrata in ospedale del bambino e anche dei genitori perché quando il bambino sta male i genitori stanno male come lui e più di lui. Quindi noi volontari accogliamo il bambino in ospedale, nella ludoteca, lo facciamo giocare, scherziamo, ridiamo con lui, facciamo tutto quello che possiamo fare per distogliere l'attenzione da quello che è il suo problema al momento. Aiutiamo i medici nella cura dei bambini, i medici per quanto riguarda la parte scientifica somministrando medicine curano il corpo, noi affianchiamo i medici curando lo spirito e la parte emotiva dei bambini. Per conoscere il mondo Abio ancora meglio e per vedere quello che facciamo vi invitiamo a partecipare all'Abio Show che si terrà giovedì 22 febbraio presso l'auditorium di Palazzo Montagna Antaldi dove verranno presentati i nuovi corsi di formazione per diventare volontario Abio e sarà un pomeriggio all'insegna della gioia, del canto, della musica e tutto quello che può fare felice un bambino. Accolgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile con la loro sensibilità dimostrata davanti alle nostre proposte di collaborazione e hanno reso possibile la realizzazione dell'evento. Per quanto riguarda Palazzo Montagna Antaldi, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro che ci ha concesso la disponibilità del palazzo, Intercontact per quanto riguarda la parte organizzativa, il coro del Grillo d'Oro diretto dal maestro Gabriele Foschi, Fabrizio Minuz che farà da coordinatore dell'evento, lo studio Accanto che si è occupato della realizzazione della locandina con cui viene pubblicizzato l'evento.